Per quanto riguarda le cure, c'è un farmaco utilizzato per l'artrite reumatoide che sarebbe dando buoni risultati nei casi gravi di polmonite causata dal nuovo coronavirus. Claudio Pandolfi ha intervistato un medico dell'ospedale di Legnano. Sentiamo. A Legnano la situazione è impegnativa. La nostra ASST ovestimilanese ha trasformato due ospedali, Legnano e Magenta, tutta la medicina interna in reparti cover. Da più di dieci giorni abbiamo creato una mini-equip che prevede l'infettivologo, lo pneumologo, l'internista e il reumatologo per gestire anche dal punto di vista clinico questi pazienti. Abbiamo inserito un reumatologo per l'utilizzo di questo nuovo farmaco che funziona in alcuni pazienti. Sta parlando del farmaco che è stato sperimentato a Napoli e adesso lo state sperimentando anche voi? Noi attualmente ne abbiamo 16 in trattamento, di cui a parte due che non sono andati bene, gli altri 14 stanno andando bene e due sono passati da essere ventilati meccanicamente al respiro in aria ambienti. Ma questo farmaco è disponibile nelle quantità necessarie? Noi in questo momento abbiamo una disponibilità perché è un farmaco che usiamo da tanti anni per i nostri malati. Abbiamo già fatto richiesta tramite la nostra farmacia e aspettiamo nuove formiture per cercare di dare qualche chance in più a tutte le persone che si presenteranno nei prossimi giorni.